ciao amici e bentornati sul mio canale oggi decorerò questa torta con il foglio di zucchero o sugar sheet una tecnica molto semplice ma di grande effetto la sugar sheet si applica su ogni tipo di stuccatura ed è possibile adattarla a tutte le forme ora vi mostrerò passo passo gli ingredienti ed il procedimento per realizzarla non mi resta che curarvi buona visione e mi raccomando iscrivetevi al canale ed attivate la campanella grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.